L'oro è uno dei materiali più preziosi al mondo e la sua origine affascinante e misteriosa. Tuttavia, esiste una pietra che vale molto più dell'oro e si trova più vicina di quanto si possa immaginare. In Italia, infatti, ci sono luoghi dove questa preziosa pietra può essere trovata e raccolta senza troppi sforzi o macchinari sofisticati. In Piemonte, la regione dove questa pietra abbonda, è possibile avventurarsi alla sua ricerca senza doversi munire di attrezzature ingombranti. La pietra in questione spesso si trova all'interno di fiumi e ruscelli, facilmente accessibile semplicemente camminando e raccogliendola. Per chi desidera venderla o trasformarla in gioielli, è necessario fare una cernita, poiché alcune pietre vanno solo levigate, mentre altre richiedono un minimo di lavorazione per far emergere la parte di valore. La pietra che vale più dell'oro è la Giada, conosciuta da tutti almeno una volta nella vita. Ciò che molti non sanno è che la Giada si trova in abbondanza in Piemonte, soprattutto nella zona del Monviso. Qui, la Giada si presenta in natura, colorando lo sfondo di corsi d'acqua o le rive dei fiumi, creando un paesaggio davvero caratteristico e ricco di fascino. La presenza di questa pietra dal grande valore economico ha dato vita a moderni cercatori che, muniti di semplici strumenti, esplorano i fiumi piemontesi alla ricerca di questo tesoro naturale.